Disposizioni di servizio emanate per agevolare dipendenti vicini al vertice aziendale e la denuncia della segreteria territoriale della federazione sindacati indipendenti della FSI riguardo alla disposizione di servizio con la quale il direttore generale dell'Aspreggina Brancati ha nominato un'infermiere a caposala, referente per le sale operatorie del presidio ospedaliero di Locri. La FSI invia una nota al DG Brancati, certi della buona fede del direttore sanitario aziendale il quale ha agito all'interesse esclusivo dell'ospedale e del funzionamento del blocco operatorio così come siamo certi, leggiamo che il dipendente in questione meriti questa promozione sul campo ma è pur vero che ci sono tanti altri operatori che si trovano nella sua stessa situazione lavorativa i quali si preoccupano di garantire la continuità organizzativa e la missione istituzionale dedicandosi con serietà e dedizione all'assolvimento dei propri doveri ma che non hanno avuto alcun conferimento di incarichi da parte della direzione sanitaria aziendale forse perché figli di un dio minore. Inoltre si ricorda Brancati con disposizione di servizio numero 58 del 31 di luglio 2017 dove si affermava che con la sua entrata in vigore sono revocati tutti gli incarichi dirigenziali relativi a strutture organizzative complesse semplici dell'azienda nonché a posizioni organizzative e di coordinamento preesistenti e non più previste nell'atto aziendale stesso.